C'è un signore che ha una tabaccheria a Vienna. E questo che significa? Domani partirai per Vienna. Buongiorno, professore. Tabacco, come sempre? Quello lì è il professor Sigmund Freud. Ne avrai sentito parlare. I suoi sigari. Scusi, professore, posso accompagnarla? Non hai niente di meglio da fare alla tua età? Un tabaccaio vende il piacere e il desiderio. Presto vedremo Hitler marciare su Vienna. Vedi a Nazi un Alzheimer, non ce l'abbiamo. Potremmo andare via insieme io e te. Io non posso andare via. Per il ciclo, per non dimenticare. Mi sento come una barca senza remi nella tempesta che vaga senza meta in balia delle onde. In prima visione assoluta, il tabaccaio di Vienna. Sabato 21 e 45, Rai 3.